Ma fortunatamente la palla resta lì, il costo, mette giù palla 9, Ambrosini lo anticipa bene, Asnica in avanti, Ciancio, mette giù palla, gira, se ne va, Battistin da solo, uno contro uno, c'è l'uomo dietro, lo atterra, attenzione, Clavo Rosso, rigore per lo Sporting, non fischia 30 lange, Arbito anguria